Primo consiglio comunale abbellante in cui il sindaco Giovanni Melchiorre ha fatto il suo giuramento. Ha ringraziato oltre gli elettori anche i consiglieri di maggioranza e di opposizione e si augura che lo stesso impegno profuso nella campagna elettorale sia triplicato nel futuro lavoro per i cittadini. Ufficializzata anche la nuova giunta. Ufficializzata la squadra di giunta attraverso la nomina degli assessori che poi verrà formalizzata con atti separati la prossima settimana perché c'è ancora da sciogliere il nodo della carica di vice sindaco e anche quella delle deleghe operative agli assessori. Anche per voi oggi inizia il lavoro. Che opposizione sarà la vostra? Sarà un'opposizione sicuramente vigile, dura laddove si renderà necessario ma soprattutto sarà propositiva e costruttiva quando questo servirà a migliorare comunque la comunità nella quale viviamo e nella quale cresciamo i nostri figli. In base a quanto stabilito anche dai cittadini faremo un'opposizione costruttiva sempre nel loro interesse, esclusivo interesse. Sia Roberto Salvatori sia Adriana Scalzone insieme ai loro eletti saranno fermi su determinati punti che hanno contraddistinto il loro programma in campagna elettorale. Per me l'ambiente è un punto da non transigere, sicuramente non mediare. Porteremo avanti i nostri punti, i nostri punti programmatici all'interno del nostro programma elettorale laddove convergeranno le linee di azione della maggioranza noi andremo a votare a favore, laddove vedremo che non c'è interesse per il cittadino o non c'era addirittura il cittadino, voteremo contro. L'imparzialità e il conseguimento dei fini che comunque comportano il benessere di tutti soprattutto delle parti più deboli e tutto ciò che si presenta più debole su questo non potremo transigere. Grazie. 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 Grazie.